Sì, sono loro, sono loro! Sì, ho capito! Ecco! Dici di stare dentro! Fra, fra, sta qua dentro perché sennò può farli vedere il video! Mi cade il telefono! Sì, lo so perché questi quanti erano! C'erano di stare dentro! La mission porta in cima! 3, 2, 1, VIA! 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 Arianna, ho fatto 3.000 volte!